Ciao, mi chiamo Lorenza Magni, vengo da Desio. Ho iniziato a frequentare l'Accademia Presto di Gruppo ST perché avevo trovato un annuncio di Amedeo Preziosi. Allora sono venuta a fare dei casting, ne ho fatti un paio e poi mi hanno proposto l'Accademia. Mi sono trovata davvero bene sia con i professori sia con i compagni. Alla fine preferivo quasi passare il mio tempo in Accademia che a scuola o a casa. Mi sono trovata davvero benissimo, sono tutti gentilissimi e soprattutto ti aiutano ad aprirti ed aiutarti a realizzare il tuo sogno. Perché alla fine un adolescente non sa cosa vuole fare, però quando sei una persona piena di grinta, di forza, capace di essere comica e simpatica con tutti, secondo me bisogna provarci a fare qualcosa. Io non ci credevo in me stessa. Ho provato un po' anche per noia, ma adesso mi sono appassionata davvero tanto. Ascolto le registrazioni, i film, le sono in tutto in modo diverso grazie a questa esperienza. Nel caso ci sarà la possibilità l'anno prossimo spero di poter farlo il secondo anno. Lo consiglio vivamente a tutti e non solo a chi magari come me è più predestinato a fare scena, ma anche alle persone timide o magari che sono un po' più riservate perché ha aiutato davvero ad aprirsi. Perciò ringrazio tutti e spero di poter rivedere tutti l'anno prossimo. Ciao! Ciao!